Allora Cipolla, difensore dell'Acregas, è stato sinora tra Coppa e Campionato tra i più presenti. Domani c'è questa sfida dura, io la chiamo dura, è importante contro l'Oradora San Giro. Che cosa ne pensi? Sì, è una partita dura perché sia il campo sia la squadra che sicuramente starà tutta dietro la linea della palla, giocando in ripartenza, quindi ci saranno pochi spazi. Sarà una partita che magari può essere anche decisa da un calcio piazzato, un episodio, quindi sarà una vera e propria battaglia. Però noi in settimana ci siamo preparati bene. Quindi siete preparati alla battaglia? Perché siete convinti che sarà la battaglia? Siamo preparati a tutti i tipi di battaglia perché siamo una squadra costruita per giocarcela con tutti e sappiamo che per giocarcela con tutti dobbiamo passare anche da questi step. Finora avete subito gol davvero sfortunati come quello con il Castellammare. Che cosa è successo con il Castellammare? Sì, con il Castellammare c'è un discorso che magari abbiamo abbassato un po' la tensione, magari frutto del fatto che siamo andati in vantaggio subito al primo minuto. Abbiamo fatto un errore di valutazione che non può permettersi questa squadra per la rosa che ha. Quindi diciamo che c'è gente che ha molta esperienza. Però devo dire anche che comunque abbiamo subito relativamente poco e siamo stati sfortunati perché c'è stato un tiro deviato che è andato a finire sotto il 7 e tutto il resto. Però c'è stata anche la reazione, dopo il gol abbiamo fatto 25 minuti all'alta intensità, abbiamo creato tante paga di gol, siamo stati sfortunati, abbiamo preso un paio di paga. Poi dico c'è stata subito la reazione. L'errore è stato che non abbiamo chiuso la partita prima. Tutto qui.